dopo l'ultima puntata alfonso ha mostrato a nikita alcuni post della madre che smentivano quanto raccontato da lei nelle altre puntate nikita non ha dato molto peso alle parole della madre dicendo di essere abituata ai suoi post sui social dopo questo però la madre di nikita ha chiuso ogni suo account a far chiarezza ci ha pensato però la sorella di nikita che ha pubblicato un lungo post dove svela la verità su sua madre e nikita cercando di fare un po di chiarezza senza però attaccare nessuno da una parte ci sono mamma e papà che credono di aver fatto del loro meglio ed hanno grosse difficoltà a vedere gli errori che hanno fatto e che con molta fatica avevo messo da parte dice poi c'è nikita che era ancora piccola ed alcune cose le ha vissute più pesantemente e poi ci siamo io e mio fratello che adesso siamo in una situazione bruttissima amiamo i nostri genitori e abbiamo perdonato i loro errori ma se ci avessero allevato senza seguire la religione le nostre vite sarebbero state completamente diverse riguardo a come mangiavamo diciamo pure che mia madre non ama cucinare quindi le cose poco costose e pratiche andavano per la maggiore però è anche vero che a nikita non piaceva praticamente nulla da bambina e quindi si mangiava i wustel sarà servito ciò per placare gli animi che da giorni si sono scagliati contro i genitori di nikita sui social cosa ne pensi della sua situazione familiare condividi il comportamento dei genitori e quindi